Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi di Piccolo Lord, un anime a cui sono molto affezionata, una storia dolcissima che sa instillare tanti buoni sentimenti e che sa davvero riempirti il cuore di gentilezza e di bontà, come poi del resto tutte le storie di Frances Hogson Barnett, che è l'autrice anche dei romanzi La piccola principessa e Il giardino Segreto. Questo è un anime del 1988 della Nippon Animation che fa parte del progetto World Masterpiece Theater, un progetto che comprende tantissimi anime tratti dai più grandi capolavori della letteratura mondiale. Come tutti gli anime di questo progetto si caratterizza per lo stile Meisaku, uno stile di animazione particolarmente dettagliato, con storie dalla grande morale e con personaggi particolarmente sviluppati sotto il profilo psicologico. Il cartone animato di Piccolo Lord non fa eccezione, anzi, forse è tra i più riusciti di questo incredibile progetto. Le animazioni sono bellissime, i paesaggi particolarmente luminosi e i colori pastello lo rendono davvero gradevole e sono molto contenta che Italia 1 lo riproponga abbastanza di frequente. Tra l'altro la sigla italiana credo sia una delle più belle nel panorama delle sigle di cartoni animati di quegli anni. La storia è quella del piccolo Cedric Carroll, un bambino di 7 anni che vive in un quartiere popolare di New York con sua mamma e suo papà. Suo padre è un giornalista e sua madre una sarta. Cedric è un bambino solare, sempre allegro, non viziato, sa farsi voler bene da tutti. Ricorda molto Pollianna nella sua personalità in grado sempre di trasmettere gioia e felicità. I suoi più cari amici sono Hobbes il droghiere e Dick il lustra scarpe. Un giorno suo padre James, mentre è in redazione, scopre dai giornali che arrivano direttamente dall'Inghilterra che suo fratello maggiore Bevis è morto. Il padre di Cedric scopriremo essere figlio secondo genito del conte di Dorincourt. Il padre di Cedric, James, ha interrotto i rapporti con il conte molti anni prima, da quando aveva deciso di sposare Annie, quella che per il conte era una sconosciuta americana. Si era poi trasferito a New York, dove era nato Cedric. Annie, la mamma di Cedric, è una donna buona che non ha avuto una vita semplice, rimasta orfana e cresciuta in un orfanotrofio. Da adolescente venne mandata in India a fare la dama di compagnia per un'anziana donna e qui conobbe James, all'epoca ufficiale dell'esercito britannico e qui i due si innamorarono. Con la morte di Bevis, il fratello maggiore di James, tutto però cambia, poiché proprio James, il padre di Cedric, diventa l'erede delle immense fortune del conte. Un giorno arriva a New York un delegato del conte che dice a James di ritornare in Inghilterra perché il conte si è gravemente ammalato a seguito della morte del figlio Bevis. James allora decide di portare con sé anche sua moglie e Cedric, desideroso di conoscere il nonno. Purtroppo il conte di Dorincourt, che aveva inventato di essere malato per costringere suo figlio ad andare da lui, si rivela essere molto freddo e crudele. Si rifiuta infatti di conoscere Annie e il piccolo Cedric. A James non resterà che troncare definitivamente i rapporti con suo padre, tornare a New York e gettarsi a capofitto nel lavoro. Questo stress gli procurerà un infarto e James se ne andrà in giovane età. A me colpisce sempre in modo particolare la drammatica scena della morte di James. Il piccolo Cedric infatti è rimasto solo a casa con suo padre, mentre la mamma è andata a chiamare il medico. A un certo punto James si accascia sul divano e muore. Il bambino, pensando che si sia addormentato, gli va a prendere una coperta e quando arriva il dottore, purtroppo, avviene la tragica scoperta. Una scena davvero molto triste e penosa. Da quel momento la vita del piccolo Cedric cambierà radicalmente perché sarà lui a divenire erede universale del conte. Cedric e sua madre vengono così contattati dal conte e si trasferiscono in Inghilterra. Ed è qui che comincia la vera storia che, a ben guardare, tratta dei temi molto profondi legati anche al contesto socio-economico dell'Inghilterra di fine ottocento. Il conte di Dorencourt rappresenta uno degli ultimi scampoli di nobiltà in un mondo che sta profondamente mutando con l'avvento della rivoluzione industriale. L'antico mondo della nobiltà cerca ostinatamente di preservare se stesso dal cambiamento. E l'arrivo di Cedric sconvolge completamente la realtà nella quale il conte aveva vissuto fino a quel momento. Non sarà facile per Cedric sciogliere il cuore del suo freddo nonno. Suo nonno, infatti, si rifiuta anche solo di vedere la mamma di Cedric, l'americana che le ha portato via suo figlio James, e la relega in una dependence lontana dalla dimora principale. Quindi la prima cosa che fa il conte è quella di dividere mamma e figlio. E Cedric soffrirà molto di questa separazione. Tuttavia non odierà mai il nonno per questo, anzi, il bambino resterà sempre fermamente convinto della bontà di suo nonno. E pian piano, grazie al suo carattere allegro e solare, suo nonno diverrà davvero una gran brava persona. Ma l'azione di Cedric non si limiterà solo a questo. Il bambino, al quale non gliene è mai importato nulla di diventare un lord, farà amicizia con tutti gli abitanti del villaggio, senza mai mostrarsi superiore. In tal senso, Cedric rappresenta lo sguardo sul futuro, in un mondo in cui le differenze sociali sono destinate via via ad appiattirsi sempre di più. Cedric tratta tutti alla pari, gioca con i bambini poveri del quartiere e dà una mano come può agli abitanti del villaggio. È un bambino molto empatico, lui ha vissuto in un quartiere popolare e sa cosa significhi non vivere nel lusso e negli agi, a differenza di suo nonno che probabilmente non ha mai messo il naso fuori del palazzo in cui vive. Anche la madre di Cedric è una donna molto generosa e comincerà a fare volontariato proprio al villaggio, dove molte famiglie vivono in una condizione di estrema povertà. E quando Cedric constaterà con i suoi occhi le condizioni delle abitazioni del villaggio di Earls Court, che sono fredde, umide, con i tetti rovinati che lasciano passare la pioggia, convincerà suo nonno a ricostruire l'intero villaggio. Io trovo davvero bellissima la puntata in cui il nonno, convinto da Cedric, si reca al villaggio per constatare di persona i problemi delle povere famiglie che vi abitano. La storia diventa molto avvincente anche grazie al colpo di scena finale. Un giorno infatti si presenta alla tenuta del conte una donna di nome Minna con suo figlio e dice di essere la moglie di Bevis e che quel ragazzo è il nipote del conte e dunque lui il primo nella linea di successione. Il fatto sconvolge il conte che fa avviare ogni indagine possibile sul conto della donna che nel frattempo si trasferisce lì. A Cedric non importa molto di non essere più un lord, a lui in fondo basta solo aver conquistato l'affetto del nonno e questo aspetto così buono e genuino del bambino colpisce molto il conte. Cedric racconta l'accaduto attraverso una lettera ai suoi amici di New York che, increduli, avviano essi stessi delle indagini. Nella redazione del giornale nel quale lavorava il padre di Cedric, gli amici di Cedric riescono a vedere una foto che ritrae la signora Minna e suo figlio. Dick, il lustra scarpe, riconosce in Minna la sua ex cognata, ex moglie di suo fratello. Dick e il signor Hobbes partono così alla volta dell'Inghilterra per smascherare la truffa ordita da Minna. Anche l'ex marito di Minna, vero padre del ragazzo, si reca dal conte per spiegare tutto e per riprendersi suo figlio. Il finale sarebbe già posto così ma la parte più bella e commovente è quando il conte chiede perdono a Annie per tutto quello che le ha fatto passare e per averla separata da Cedric e la invita a trasferirsi a palazzo. Insomma un finale davvero strappalacrime per una storia bellissima e ricca di valori, perfettamente trasposti in un'anime senza tempo e sempre piacevole da guardare. E voi cosa ne pensate di questa storia meravigliosa? Aspetto come sempre i vostri commenti e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!